Sì, sì! Olè! Hai preso un relato! Menni, benissia! Sì, 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 sulla mano! Sì! Olè! Fine del terzo round! Sì! Sì! Quarto round! Grazie a tutti. Un attimo, prima con la strada. Sì! Questa è la cura. Questa è la cura. E ti calco le gambe. Sì! Siamo inizia. 1 e 2. 1 e 2. Sì! No, Gantt, la tua distanza. No, sì! Quella, un minuto. La tua distanza, eh? Sì! Dai a la strada. Ma io le sentisco, cosa? Dai, bordo! E subito! No, ma guarda. Qua siamo? A bordo, voglio poterlo. A bordo, a bordo. E si fa un minuto. 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 E ne vedete. E ne vedete. E ne vedete. Fin del quarto round. Grazie a tutti Grazie a tutti Quinto ed ultimo round Grazie a tutti 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 Grazie a tutti